In nome del Stato italiano, la Corte, in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andriotto Giulio, che ha parlato dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore General, dichiara che non dovessi procedere nei confronti di lo stesso Andriotto, in ordine al reato di associazione per delinquere, agli ha scritto a capo della rubrica commesso fino alla primavera del 1980 per essere lo stesso reato e scritto per prescrizione. Confermo nel resto l'appellata sentenza. Indica il 10.90 il termine entro il quale dovranno depositate le notizioni della sentenza. Assunzio! Udizio e pepa! Assunzio!